Assessore Magnacca, Smau all'interno di Visionaria, un momento importante per le nuove aziende abruzzesi che vogliono proporsi al mondo? È assolutamente una grande vetrina per le start-up abruzzesi, per quelle che portano nel mondo produttivo tanta energia, tante idee nuove e tanta capacità di fare innovazione. Questo è l'ecosistema dell'innovazione e l'innovazione, come abbiamo detto più volte, è la cifra del sistema produttivo abruzzese. Grazie